Capitolo 7. Dove accade la tragedia? Offendo una dea. Fu colpa della pizza, non nel senso di intossicazione alimentare, nel senso di nostalgia. Il trancio col formaggio sembrava un triangolo di plastica fusa guarnita con tre tristi foglie di basilico e servita su un piatto di carta molle d'unto. Non avevo nessuna intenzione di mangiarla, non dopo il commento di sparchi sulla muffa, ma il profumo mi riportò all'istante in terza elementare. Il mercoledì era il giorno della pizza. Ricordai l'odore di formaggio bruciacchiato nella mensa del seminterrato, le sedie di plastica verde scrostate, le concitate conversazioni con i compagni sulle figurine da scambiare e l'insegnante di storia che era il supervisore del pranzo, il signor Christ. Non sto scherzando, era veramente il suo cognome. Eravamo troppo spaventati per chiedergli il nome. In quel momento, guardando e annusando la scintillante pizza di plastica dell'ebetudine, tornai all'età di otto anni. «Wow!» esclamai. Ebbe sorrise, come se sapesse esattamente cosa stavo pensando. «Fantastico, vero? Sentirsi di nuovo bambini!» «Ok, forse non sapeva esattamente cosa stavo pensando. Essere in terza elementare per me non era stato fantastico, e nemmeno lo era stata la pizza, ma essere trascinato indietro nel tempo da un semplice odore fu un'emozione forte. Grover si avventò e divorò la sua fetta, il relativo piatto di carta e il mio tovagliolo. Avevo imparato a tenere le mani lontane da lui quando era in modalità pascolo perché poteva capitare che mi masticasse le dita. Annabeth invece rimase concentrata sui boomer del karaoke. Ora stavano cantando a squarciagola un pezzo lento e triste su dove erano andati a finire tutti i fiori. Mi venne voglia di gridare «Non lo so, perché non andate a cercarli?» «Che generazione leggendaria!» commentò Ebbe ammirando gli attempati cantanti. «Anche ora si rifiutano di accettare di invecchiare», si voltò verso di me. «E tu, Percy Jackson, presumo tu sia venuto a chiedere un favore. Inizi forse a rimpiangere di aver rifiutato l'immortalità?» «Ci risiamo», pensai. «Ogni volta che gli dei tiravano in ballo il mio rifiuto dell'offerta di Zeus, lo classificavano come un segno di stupidità o, peggio, come un insulto alla deità». Non avevo saputo trovare un modo efficace per spiegarglielo. Tipo, forse se voi divinità prometteste di riconoscere prima i vostri figli semidei, così che non debbano vivere la propria vita senza sapere chi sono o da dove vengono, sarebbe un vantaggio per tutti. Probabilmente mandai forti segnali di sarcasmo in arrivo perché Annabeth intervenne. «Ha fatto una scelta altruista. È grazie a lui se i tuoi figli hanno avuto la loro casa al campo mezzosangue. Finalmente hai ottenuto il rispetto che meriti», Ebbe strinse gli occhi. «Forse. Però, Percy Jackson, rifiutare l'eterna giovinezza. Non dirmi che vuoi davvero invecchiare. Non capisci quanto sarà terribile?» Non esisteva una risposta giusta a una domanda del genere. Sinceramente avevo passato la maggior parte della mia vita a desiderare di essere più grande, così da arrivare al college e uscire dalla fascia di età in cui i mostri cercavano di uccidermi un giorno sì e uno no. Però non volevo contraddire la dea, così tentai una risposta cauta. «Ecco, immagino che invecchiare faccia parte della vita». «Questa pizza è fantastica», mi interruppe Grover, probabilmente nel tentativo di salvarmi dall'incenerimento per mano divina. «E la musica!» Nel guardare i boomer corrugò la fronte. «Aspettate un attimo. Stanno davvero diventando più giovani?» Aveva ragione. I cambiamenti erano sottili, ma i loro capelli non sembravano più così grigi e le posture erano più dritte. Le voci suonavano più sicure, anche se ancora terribili. «Vengono qui per ricordare i vecchi tempi», Ebe indicò con un gesto della mano intorno a sé. «La nostalgia è la porta per tornare alla giovinezza. Io mi limito a mostrare loro come aprirla». Un brevido mi corse lungo la schiena. L'ultima cosa di cui il mondo aveva bisogno erano dei boomer che tornavano ai bei tempi andati, della serie «Ci siamo divertiti così tanto a rovinare il pianeta la prima volta che lo vogliamo rifare!» «Ehm, gentile da parte tua», azzardò Grover. Ma dal leggero tremito nella voce capì che quel posto non gli piaceva più, a prescindere dalla bontà delle stringhe di liquirizia. Ebe incrociò gli stivaletti e allargò le braccia sul divanetto dietro di lei. Con quell'espressione compiaciuta mi ricordò più un boss mafioso che un adolescente degli anni sessanta. «Dunque è per questo che siete qui», chiese. «Volete conoscere il segreto della giovinezza? Immagino che nessuno di voi abbia avuto una vera e propria infanzia, giusto? Sempre in giro a fare commissioni per gli dèi, a sfuggire ai mostri, ad adulteggiare». L'espressione di prima si inacidi, come se la parola la disgustasse. «Il nostro torneo di ski-ball di solito toglie un anno o due», continuò. «Oppure potete riscattare dei biglietti in cambio di vari elisir al banco dei premi. Solo vi avverto che se state cercando qualcosa di estremo non trasformo nessuno in neonato. Non fanno altro che piangere, fare la cacca e vomitare. La vera magia dell'infanzia comincia intorno agli otto anni». Annabeth si agitò sulla sedia. «In effetti non abbiamo visto nessun bambino piccolo, nessuno che avesse meno di otto anni, direi. La tua manager, sparchi, rimane nella sala giochi principale», la interruppeve. «Vedete, in qualsiasi stanza mi trovi sono sempre io, quella più giovane, anche se solo di pochi mesi. Non sopporto che qualcuno abbia meno anni di me», scacciò l'idea con uno sventolio della mano, bandendola dal suo cospetto. «Ma effettivamente preferisco gli anni dell'adolescenza». «Quindi bazzichi un bar karaoke», feci io. «Ci sta». Lei annui. Presi mentalmente nota di non stuzzicarla con il sarcasmo, ne era immune. «Ora, se mi dite quanto volete ringiovanire, vi dirò quanto costa», proseguì. «No», rispose io. L'aria intorno a noi si fece tutto un tratto più fredda e unta della pizza. «No», ripete la dea. «Non è per questo che siamo qui». L'espressione di Hebe si trasformò da compiaciuta in «faccia da divin carogna», il che non era una buona cosa. «Allora perché mi fate sprecare il mio tempo infinito?» «Stiamo cercando informazioni», disse Annabeth. «Sugli dei», aggiunse Grover. «Un dio, ipoteticamente. Non so, Ganimede, per esempio». Fui tentato di infilargli un dispenser di tovaglioli in bocca. Ormai era tardi. Hebe si sporse in avanti. Aveva le unghie dipinte di giallo fluo. «E perché chiedereste di lui, di grazia?» I boomer finirono la canzone. Presero a darsi il cinque, misero a posto i microfoni e scesero dal palco trascinando i piedi, diretti di nuovo alla sala giochi. Tipico tempismo da boomer. «Divertiti e togliti di torno appena prima che tutto vada a catafascio». Grover si contorceva sotto lo sguardo della dea. Al pizzetto era rimasto attaccato un brandello di tovagliolo a forma di minuscolo fantasma. «Stiamo solo conducendo un breve sondaggio d'opinione». «Vi ha mandato lui», indovinò la dea. «Più a lungo rimaneva seduta con noi, più sembrava giovane. Se l'avessi vista all'alternativa high school, l'avrei etichettata come una del secondo anno, o addirittura una matricola, una matricola molto colorata e dall'aria vendicativa». «E ditemi, perché lo avrebbe fatto?» Annabeth sollevò le mani, cercando di mostrare che avevamo intenzioni pacifiche. «Non conta che ci ha mandato, quanto...» «In effetti ultimamente era nervoso», riflette Ebe. «Ma non avrebbe inviato una squadra di eroi, a meno che...» Sorrise. «A meno che non avesse perso qualcosa». «Oh, non parlerete sul serio, ha perso il calice degli dèi!» Scoppiò a ridere così divertita che cominciai a rilassarmi. Se lo trovava divertente, forse era un bene. Le dèe allegre mi piacciono molto più di quelle arrabbiate. «Ecco, non possiamo né confermare né smentire», intervenni stringendomi nelle spalle. «Che meraviglia!» ridacchiò Ebe. «Quella streghetta rivista è in guai grossi e vi ha mandato a interrogarmi perché...» Dal suo viso sparì ogni traccia di divertimento. «Oh, capisco». «Volevamo solo alcune informazioni di base», aggiunsi in fretta. «Sai, tipo, chi potrebbe avere un motivo per...» «Rubare il calice», concluse Ebe. Annabeth scosse la testa con vigore. «Eh, non stiamo insinuando! Pensate che l'abbia rubato io! Siete venuti ad accusarmi!» «Non solo per quello!» urlò Grover. «Io... io sono venuto per la liquirizia!» Ebe si alzò. Il vestitino turbinò di arabeschi rosa e azzurri. «Degli eroi che accusano me di furto!» «L'unica cosa che ho mai rubato è il tempo alle parche, così che i mortali potessero godere di una vita più lunga! Non mi interessa niente di quel... quell'usurpatore di coppe! Pensate veramente che rivorrei il mio vecchio lavoro a servire ai tavoli sul Monte Olimpo, quando ho il mio locale personale con tutte le pizze, il karaoke e gli autoscontri che potrei desiderare!»